Subnautica Ho scoperto alcune cose Vi faccio vedere la base Sono entusiasta di mostrarvela Ho avuto problemi e allagamenti nel piano inferiore Un aneddoto divertente Hanno cambiato C'è stata la patch nuova, ovviamente il gioco mi ha detto Non va bene, devi rifare Convertiamo il save e funziona tutto bene Perché le nuove cose ci sono Cambiata la grafica dei pannelli solari Sono un pochino più belli adesso Entriamo nella base e andiamo subito a vedere Che cosa c'è stato a livello di cambiamenti Allora, beh prima di tutto Qua magari raccogliamo questo Allora, cambiamento principale Qua sulla destra Cartello CMOT con la freccia Abbiamo il CMOT che ho rifatto L'avevamo raggiunto anche prima di fare il reboot della serie E la moon pool Avevamo trovato dei frammenti Sono andato e ho cercato quelli Quelli del Mancanti Allora, adesso Qua abbiamo la console di aggiornamento del CMOT Che vedete si apre solo in questa stanza E basta Qua possiamo andare scoprendoli Trovandoli magari sull'aurora Andare a potenziare Arriva solo a 200 metri di profondità Ma questo lo sapete già Abbiamo qua Vabbè si scende Poi andiamo a vedere Qui Novità Allora, prima novità Vabbè avevamo aggiunto il tavolo per la creazione delle modifiche Questa Prima novità Ultimissima patch Il caricatore delle celle Purtroppo carica solo Devo mettere in pausa ogni tanto Perché se no mi scende troppo la fame Allora qua Ora Le batterie e le celle Una volta scariche non scompariono Ma ci rimanerano nello zaino Quindi restano lì a carica zero Possiamo usarle comunque per il crafting Qualora il crafting L'oggetto richiedesse una batteria Anche se scarica va bene allo stesso Ho testato Nel caso in cui invece Volessimo ricaricarle Ci sono questi pannelli Dove noi possiamo inserire le nostre batterie E qua in alto vedete il livello di carica raggiunto Vengono ricaricate Quindi possiamo usare le pile per il C-Glide Una volta scariche le mettiamo nell'apposito caricatore Questo è solo per le celle Quindi quelle più grandi Poi c'è il caricatore mi pare da 6 pile E adesso arriviamo nella patch La penultima patch Che è quella del Del tavolo della Della stanza della radar Insomma E qui abbiamo la possibilità di Craftare Dei potenziamenti Possiamo inserire appunto i potenziamenti Della stanza del laser Abbiamo qua invece la possibilità di cercare Dei metalli Qua intorno Qua vedete stiamo scansionando la zona E poi possiamo controllare questi droni Vedete i droni Li controlliamo Possiamo muoverli Arrivano fino a un tot di metri di distanza Diciamo da qui all'aurora Arriva Poi inizia a perdere il segnale Si inizia a vedere un pochino di rumore Nell'immagine E si vede Inizia a vedersi male Per perdere il dettaglio La possiamo muovere come vogliamo E vedete che quando noi andiamo a fermarla E decidiamo di uscire Allora vedete Ecco vedete l'immagine rimane ferma Non è aggiornata in tempo reale ovviamente Quindi se noi ci mettiamo in mezzo qualcosa Una nuova stanza non viene aggiornata Ne abbiamo attualmente due Questa è una Con la rotellina del mouse Ne controlliamo un'altra Che ho messo qua La moon pool Possiamo guidarle Possiamo anche Io ho inserito adesso Ho craftato L'aggiornamento Del Che Dovrebbe essere Già inserito Dentro di me Qua Praticamente trasmette Alla mia interfaccia grafica Le ricerche effettuate Cioè se io voglio trovare il quarzo Lui parte Cerca Ci metterà un po' E poi trasferirà a me Al mio radar personale Dove sono Il quarzo Dov'è il quarzo Qua abbiamo la scansione Dell'aria circostante E' davvero bello Qui non ha ancora un'utilità Almeno non ho visto nulla Bellissima l'idea dei droni Magari potrebbe aver senso Craftare una di queste stanze Magari in punti un pochino più Strategici Come in una grotta subacquea E altro da dire Scendiamo di sotto E vediamo gli aggiornamenti Della nuova zona qua Allora praticamente qua Il reattore è rimasto invariato Mentre invece qui Ho avuto dei problemi Perché mi si è allagata Tutta la stanza qua sotto Perché? Perché avete presente Quei pesci rossi Quelli che galleggiano Quelli che portano Ecco Avevo Messo un uovo Di stalker E questo stalker Giocava Portava in giro Questo Pesce Palla E Continuava a danneggiarsi La stanza L'ho rinforzata Ma si rompeva comunque E allora Niente Ho Tolto Quel pesce lì L'ho ributtato in mare Non è più successo nulla Quindi Allora al momento Abbiamo questo acquario Che ho potenziato Perché ho alzato Ho deciso di Di craftarlo anche qua in alto Adesso breve lo costruirò È bella la stanza Con la visuale sull'acquario Certo Però alzandola Potrei far crescere Di più Questo Ho piantato Il seme appunto Di Crepevine Al 53% Oltre non va Se cresce in alto Magari mi dà anche I semi Quindi riusciamo a piantarli Ho messo un uovo Vediamo che cosa cresce Al momento ho cercato Di mettere coppie Di pesci vari In modo da poter Il pesce vanga C'è Questo qui arriva da un uovo Le uova Io le coltivo Cioè le coltivo Le faccio schiudere Per poi mettere Questi oggetti Questi pesci Che sono assolutamente Inutili Come carburante Per il Vabbè lo so che Credo delle Ma vabbè Allora adesso Quello che faremo È questo Cerchiamo di Mangiare qualcosa E poi Andiamo Eccolo qua Il drone Passiamo qua Possiamo anche raccoglierlo E possiamo Ho messo quel segnalino Là Ho craftato una Una sonda Là Energia Perché là Allora Là prima di tutto C'è un relitto Da esplorare E E c'è anche una fonte Di energia Cioè c'è un vulcano Quindi Andremo a vedere Allora Quello lì cos'è Vediamo un attimo Se Riusciamo A capire Se possiamo No Allora Ci prendiamo qualcosa Da mangiare Ce l'ho Allora Chiarisco subito Il dubbio che avevo Mi è stata incollata Copia incollata La dicitura Sulla wiki Di cosa facevano le pinne Allora Le pinne non caricano Il 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 Seaglide Ecco non il Seamot Non lo caricano Perché non ce la fanno Però Ho notato che ricaricano La taglierina laser Vedete Io adesso nuoto E pian piano Vedete Se è 75 A 76 E pian piano sale 1% Ogni 10 metri nuotati Ok Adesso Accordiamo un po' di cose Tre pesci Direi che possono bastare Ok La base È ancora Abbastanza tirata Come energia Cioè Non ne abbiamo Tantissima L'idea sarebbe Quella di farne una Molto più in profondità Anche se In profondità Aumentano anche i rischi Io ho fatto il seamot E l'ho perso 10 minuti dopo Perché sono stato Avvolto Dalla Piova gigante Quei pesci Con i lunghi tentacoli L'hanno afferrato Hanno iniziato a distruggerlo Sono uscito L'hanno mollato Mi hanno inseguito Allora ho detto Ma perché lasciare il seamot Lì sotto Sono tornato a prenderlo Ed è esploso Definitivamente Ho dovuto perdere Un'altra ora Per rifarne un altro Perché i pezzi Ok Ne chiedeva Parecchi Allora Prendiamo l'acqua Cuciniamo il pescio Allora Vediamo se ce la faccio Allora Allora Riguardo invece Chi Seguiva anche Rimward Io sto aspettando Che mi venga comunicato Che la traduzione è pronta In modo da poterla Inserire nel gioco E giocarci la nuova Pescia Ricominciare magari da zero Rifare i personaggi Che avevo già fatto Però l'idea è quella Comunque di Continuare 1 2 3 Beviamo l'acqua Siamo messi molto bene Craftiamo magari anche Una pila Ma possiamo fare Il cloro Minerale di arame Dovremmo averne Parecchio Qua Infatti Facciamo la pila Almeno usiamo un po' Di simot Vediamo magari Se riusciamo anche A craftarci La pila Perché potrebbe essere Molto utile Una batteria Del vetro Ma Direi che Scusate Un secondo Allora Facciamo Vediamo un attimo Se abbiamo il vetro Da qualche parte Ci facciamo anche la torcia Che almeno sarebbe utile A qualcosa No Non abbiamo Non abbiamo vetro Un momento Non possiamo neanche farlo E Eh vabbè Niente Niente vetro Almeno non lo vedo Io Non mi pare Ad averlo Niente Facciamo La pila E basta Usiamo La luce Del Del Siglide Ok Allora Dovremmo aspettare il giorno Ma magari Allora Intanto svuotiamo Quello che abbiamo all'interno Qui Perché Non ci serve Nulla Di tutto questo Eh Neanche qui Eh Questo qua lo teniamo Perché Si sa mai Siglide Lo aggiungiamo lì Perfetto Aspettiamo il giorno E poi partiamo Con il nostro Simot Per dire Non avessimo Questa stanza E il Simot Fosse scarico Potremmo togliergli La cella di energia E metterla Ricaricare di là È inutile al momento Perché È bellissima l'animazione Anche dove si salta dentro E si esce Andiamo A questo punto Verso la Energia La La mia sonda Che ho messo là E Che dire Il Simot Consuma veramente poco Devo ammettere Che non consuma Moltissimo Siamo ancora al 100% La salute Non è messa bene Dove dargli una saldatina Perché ho avuto Qualche danneggiamento Dovuto a Qualche Danno Da pressione Perché sono sceso Sotto i 200 metri E E si danneggia in automatico Allora Vediamo Allora Dobbiamo evitare Questi Qua ci sono Dei bei progetti Probabilmente Si nasconde Qua in mezzo Anche il progetto Per il caricabatterie Ma Comunque Speriamo di non trovare Niente di Troppo stile Perché non abbiamo Ancora armi Ecco qua Qua siamo arrivati Ormai al Eccolo qua L'emergenza è qui Allora L'energia è qua Qua intorno Dovremmo avere Eccola lì Qua c'è La fumarola Come mi è stata Definita Dove potremo Guadagnare Ottenere dell'energia Qua intorno invece c'è Eccolo qua Questo Relitto Io ho esplorato Il primo relitto E quello che ho trovato All'interno Non era assolutamente Nulla di che Accendiamo anche la luce Non era nulla di che Perché ho trovato Una luce Una luce Di quelle piazzabili No Non Allora Dobbiamo tenere Per buono Il Seamot qui Perché Se Dovessimo finire L'ossigeno Ritorneremo subito lì Seaglide Subito Viaggiamo all'interno Si può Ah vedete qua Mi fa scegliere la batteria Da caricare Ok E Questa Ok Cambiata Sostituita Entriamo Allora qua abbiamo una porta Da aprire Cerchiamo di ricordarci Da dove siamo Arrivati Perché Allora Qua Arriviamo Cazzo Ho già perso L'orientamento Ok Da lì arriviamo Da qua scendiamo Diamo un'occhiata Qua è aperto Anche sotto Abbiamo Ah ma no Questa qui Questo qui L'abbiamo già aperto Ok Vediamo se c'è altro All'interno Qua da vedere C'è una porta Qua ma non si può Aprire Niente Questa qua L'avevo già aperta Allora Questo Piccolo Sbaglio Io Di orientamento Vi ho mostrato Allora Il relitto Che avevo aperto Io la volta Scorsa Potremmo andare A cercarne un altro A questo punto È molto bella La zona qua Ma anche Molto pericolosa Direi di andarcene E magari Di Prendere Un'altra direzione Magari qua vicino C'è qualcos'altro Fare attenzione A non passare sopra Sì Va bene Andiamo magari In questa direzione Qui Vediamo Perché è di là Proviamo da questa Non è armato Ancora con missili Né niente Quindi è un po' Un rischio Spostarci in zone Che non conosciamo È brutto anche Il fatto che si carichi Tutto così Tardi Quindi se si va Sparati C'è il rischio di Di schiantarsi Addosso a qualcosa I pesci Ci fanno male Cioè se i pesci Ci arrivano Addosso A tutta velocità Eccolo qua Abbiamo trovato un altro Vediamo Se c'è qualcosa Da poter Apparire qui Ok Lo parcheggiamo qua Scendiamo Oh oh No eh Lo sta danneggiando No Direi di no Però Al momento Ok se ne sta andando Non attira più la sua attenzione Ok entriamo Si muota la mano Vediamo Una porta L'apriamo Almeno siamo in piano Qua Non dobbiamo far giri strani Ok Qua all'interno Non c'è nulla Dobbiamo aprire questa porta Sigillata La tagliamo Iniziamo il taglio Vedete Fa tutto da solo Però ci vuole Un tot di tempo Tempo che dovremmo In teoria avere Perché non Di ossigeno Ne abbiamo Carica Residua Del Del saldatore Ne abbiamo Anche se scende rapidamente Siamo già al 40% Vedete Lui sta facendo il giro Chissà all'interno Di questa stanza Che cosa troveremo Magari Una volta Aperta Torniamo fuori E Ci prendiamo Una boccata d'ossigeno Anche se l'idea Della terza bombola Non sarebbe male Per queste cose Però Siamo comunque A 91 metri Sì l'ossigeno Non scende di troppo Ok L'abbiamo aperta State per vedere L'apertura 96 98 100 Ok Si è aperta Possiamo entrare Vediamo Oh Fantastico La panca Possiamo sederci E parlare Tranquillamente Senza far scendere più La fame E la sete Ok Questo Non vorrei Forse l'unica cosa Che possiamo trovare Qua dentro Anche se È possibile Perché Che cacchio Ok Eccoci di nuovo qua Ho avuto qualche Problemino Con la registrazione Ma Adesso Riprendiamo E andiamo a vedere Che cosa c'è In quella Allora Abbiamo aperto qua Abbiamo aperto lì E andiamo a vedere Adesso Allora Qui Non mi pare Ci sia nulla Oh Un pescione Vediamo Questo cos'è Possiamo prenderlo Ah La Red light Fragment Che abbiamo già raccolto Prima Infatti Ce la trasforma Automaticamente In titanio Andiamo a vedere Cosa c'è qua sotto C'è un secondo piano Vediamo se possiamo Scansionare qualcosa Apriamo Qua Abbiamo trovato Un segnale Che poi andremo a vedere Elettricità Frammento di simot Che abbiamo già Proiettore Che andiamo a scansionare Immediatamente Qua ci lasciano le penne Lo sento Ok Abbiamo trovato Il proiettore Qua non c'è niente Questo? Cos'è? La Vodafone Station? No Vabbè Direi che Per adesso Può bastare Intanto Non Non penso Che ci sia altro Qua Stiamo anche finendo L'ossigeno Diamo un'occhiata Ancora 57 secondi Quindi abbiamo un po' di tempo Ci prendiamo Il pesce Ah 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 Cos'è sta roba? Eh beh Il vaso Il vaso Il vaso importantissimo Perché ci consente Di coltivare All'interno della base E ci sono al momento Guardate sulla wiki Tre tipi di vasi Quindi Questo è un altro Vediamo Adesso Magari Usciamo Merda È là È là E direi di non tentare Troppo la sorte E di andarcene Quanto prima Guardiamo un'occhiata Che magari Non ci dà neanche fastidio Abbiamo recuperato Il vaso Buona cosa Ma Oh merda Continuo a sbagliare i tasti Perché sono convinto Di guidare L'astronave Di Elite Dangerous E cerco Di fare la rotazione Allora Vediamo un attimo No Dovrebbe lasciarci in pace Picchiato contro Ok dai Ci riproviamo Perché a noi piace il rischio Soprattutto se non Non rischiamo Quando Quando siamo qui A registrare Questo cos'è? È anche questo? No Questo dovrebbe essere Il caricatore Delle batterie Che però Non ci lascia Studiare Niente Ora è una console Di aggiornamento Comunque Possiamo studiare anche questo Vediamo Se sì No Forse Vaso già ricercato Ok niente Abbiamo un altro Frammento di Simot Beh certo che Quando ci servono Non saltano mai fuori Cacchio è questo C'è una scala Andiamo a vedere Questo è Ah L'uscita Di qua Ok Bene Abbiamo trovato Un'uscita d'emergenza Era bella grande La nave Probabilmente questo qui È Un frammento Di Allora questo Cornice Eccola qua Anche la cornice Importantissima Per poterci fare Qualcosa di Di utile Non so Metterci una foto Forse Io voglio trovare Il letto Devo trovare Assolutamente Il modulo Con il letto Perché il letto Lo voglio fare Merda Via 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 Che vada lentissimo Sto 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 Ok 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 Non tentiamo più La sorte E ce ne andiamo Ci mettiamo una A una profondità Di sicurezza E anche giorno Quindi Adesso andiamo Come dopo aver fatto La spesa In un negozio di Videogiochi Andiamo a scattare Tutte le nuove scoperte Abbiamo Raccolto anche un po' Di materiali Quindi Buono Vedete abbiamo Consumato In tutto il giro Non è che sia stato Un gran giro Però Il C-Glide E' sceso tantissimo Il C-Moth Nonostante siamo andati Comunque lontani Era un bel Bel pezzo E Ha consumato 12% Di energia Non Non so Non credo Che nasconda ancora qualcosa Quella riletto Comunque vedete Che da quando io ho detto Non c'è più niente Abbiamo ancora trovato roba Quindi Ok dai Adesso Vi faccio vedere l'attacco Davvero molto figo La base è bellina Non so fino a quando potrò Fino a quanto Distante potrò spingermi Senza dover mettere Qualche ripetitore di energia Comunque Ok Apriamo il portello Saltiamo fuori Perfetto Adesso diamo un'occhiata A che cosa si può fare Perché E' interessante Allora Il discorso della cornice Che è qua Ci serve un filo di rame E andiamo subito a vedere cos'è La panca La facciamo subito La panca andrebbe fatta Vicino A una zona di osservazione Che al momento Non abbiamo Quindi Direi di Non so La mettiamo qua al momento Dai Ci sediamo qua E aspettiamo Quando vogliamo aspettare l'acqua Ci sediamo Aspettiamo l'acqua Poi La cornice Dicevamo ci serve Del filo di rame Allora Il proiettore Luce industriale Alimentata a batteria Progettata Ok Perfetto Quello c'è Il vaso Il vaso Assolutissimamente Lo piazziamo qui E Io non so Effettivamente Che cosa ci si possa fare Ok Ci possiamo piantare Delle Piante E Vediamo Adesso Vabbè Facciamo il filo di rame Adesso Ci servirà probabilmente Del rame Giustamente Vediamo Minerale Rame Per due Vediamo Uno Due Mi spiace Mi piange il cuore Dover Far fuori Quella risorsa lì Però Se ne trova Dai Non credo che ripoppi I materiali Però Il titanio Quello che Mi sento di Di prendere Un pochino più A cuore leggero Perché Il titanio Ci sono tanti progetti Che conosciamo già E quindi Ce li converte in automatico In due di titanio Allora Mangiamo subito il pesce Allora Vediamo un attimo Adesso che cosa Dovevamo fare Ci mancava La cornice La cornice Ci chiedeva Il filo di rame La mettiamo Vabbè Questa stanza Che così spoglia Proviamo a metterla qui E vediamo che cosa Ci lascia fare Ok Vediamo cosa serve Imposta immagine Non abbiamo immagini Dobbiamo fare degli screen Ok Praticamente È il Il quadro In cui Scegliamo Più o meno Zoomata Una Una foto Uno screenshot Ok Adesso facciamo Un'ultima cosa Prima di chiudere Facciamo Prendiamo il saldatore Lo mettiamo al posto Della Della taglierina laser E diamo una bella Rassettata Al nostro Seamot Perché ci piace Chiudere in bellezza Ma Non vedo la riparazione Infatti Vabbè Gli diamo la riparazione Da qui Ok Perfetto A posto Saldato Rimesso a nuovo Pronto per le nuove avventure E Niente Prima di chiudere Diamo un'ultima occhiatina A quello che c'è di sotto Poi vedremo di piantare Anche qualcosa Faremo magari una stanza Solo di piantagioni Dovremmo piantare qualcosa Che si possa mangiare Avete dei consigli voi Da Che seguite da casa Fatemi sapere Ah qua Ah È arrivato quel pesce lì Che è Questo qua Questo qua è il bone shark E che quando cresce Poi probabilmente Potrebbe anche fare molto male Quindi Tu finisci Come energia Ci dà Tanta energia Avevo messo dentro Un pesce Ci dà forse 800 di energia Quindi È una bella autonomia Che abbiamo Quindi dobbiamo continuare A recuperare uova E così via Avete suggerimenti Dove andare Cosa fare La prossima puntata Andiamo a vedere L'isola abbandonata O avete suggerimento Recuperiamo magari Prima il cannone Per difenderci E poi andiamo sull'isola Con la base abbandonata Fatemi sapere Troveremo cose interessanti Il gioco mi piace molto E spero piaccia molto anche a voi Alla prossima ragazzi Ciao 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 ciao